Primo settembre, Brixia Florum, si riprende soprattutto la notizia che si riprende. Sì, esatto. Dopo alcuni anni di fermo, un po' causa pandemia e altre situazioni, abbiamo approfittato di questa occasione con l'assessore che ci siamo trovati, abbiamo ripreso la collaborazione con l'amministrazione di Brescia, che era già in atto da oltre 10 anni, con Fiori Insieme e con Brixia Florum. Di solito Brixia Florum era sempre tenuta in primavera e quest'anno per la prima volta la terremo in autunno, anche se probabilmente l'offerta di piante sarà un po' meno interessante perché in autunno c'è meno produzione, però avevamo voglia di ricominciare a portare il verde dei floricoltori bresciani a Brescia. Ci sarà peraltro una nuova location, come si usa dire ora, che è Piazza Vittoria, quindi anche una nuova sfida perché le dimensioni di Piazza Vittoria sono molto più grandi rispetto a quelle di Piazza Loggia o Piazza del Duomo a cui eravamo abituati, ma sicuramente le aziende sapranno fare del loro meglio per portare tutto quanto è necessario a interessare i cittadini di Brescia al verde della nostra provincia. Cosa troveranno i bresciani? Ma troveranno un po' tutto, quella che è la produzione estiva-autunnale, quindi da alcune stagionali, alcune piante che anticipano l'autunno per poter riprendere un po' la manutenzione delle nostre terrazze, dei nostri giardini. Ci sarà anche un'esposizione di una bella aiola per far vedere cosa si può fare nei nostri giardini, magari dare qualche idea anche per quanto riguarda le piante da esterno. Ci sarà anche la possibilità di trovare delle attrezzature per quanto riguarda le manutenzioni delle nostre aree verdi, spingendo soprattutto sulle attrezzature a batteria, che ora sono il futuro, sia per una questione di sostenibilità che di facilità di utilizzo. Le stiamo già utilizzando da anni a livello professionale e anche a livello obbistico, ormai direi che sono imprescindibili da chi vuole fare manutenzione nelle proprie aree verdi, quindi si potrà trovare davvero un po' di tutto. La notizia è che perlomeno si riparte dopo lo stop addirittura del Covid. Sì, era per noi importante tornare a coinvolgere i floroviveisti bresciani nelle iniziative di intrattenimento e comunque di socialità nel nostro centro storico. Con loro abbiamo sempre organizzato due manifestazioni, una è Brixia Forum, quella che riparte adesso domenica 1 settembre, e poi Fiori Insieme che invece è la manifestazione, quella diciamo così di giardinaggio architettonico e scenografico. È più impegnativa da costruire, quindi siamo partiti adesso con Brixia Forum, che è un primo appuntamento, quindi un mercato di piante e fiori, dove appunto i floroviveisti potranno esporre non soltanto appunto le piante e fiori che loro vendono e producono, ma anche interzzature da lavoro. Era importante ripartire ed era importante per noi anche dare un segnale rispetto a Piazza Vittoria. Piazza Vittoria è stato oggetto in queste settimane di Vittoria in Movimento, è stata una rassegna connotata dalle attività sportive. Adesso cambiamo registro, iniziamo a portare qualcosa di diverso, iniziamo domenica 1 settembre proprio con questa iniziativa floreale, proprio perché dobbiamo associare il bello al bello, riportare anche qualcosa di più scenografico, magari meno coinvolgente da un punto di vista della socialità dei più giovani e dei giovanissimi, ma sicuramente attraente per un altro target di persone, per iniziare a costruire un programma che possa fare vivere Piazza Vittoria in tanti modi, con tante sfaccettature. Quindi è un ringraziamento ai floroviveisti bresciani, un ringraziamento per il loro impegno, un primo passo, ma nel 2025 si tornerà alla grandissima, sia con Bix of Forum che con Fiori insieme, quindi è un'anteprima.